Il più grande cliente della Svizzera è l'Unione Europea. La Svizzera è una delle nazioni più forti al mondo nell'esportazione di beni e servizi. Pensate che bene un franco su tre viene guadagnato all'estero. È assolutamente fondamentale costruire relazioni stabili e favorire una politica europea costruttiva per garantire, anche in futuro, il benessere della nostra economia e della nostra collettività.